è lì la manica non la vedi? io no attento eh eci fuori ma non deve ben intervenire qua deve stare più dietro per la terra se no l'ha arrivato qua è piena di pietra qua eh infatti ho visto pure fin da frie vabbè rifà il giro fa un po' di quota ma poi non capisco perchè deve tenere qua c'è di dietro un prato bellissimo perché non tena l'acqua ecco ora va già bene se si porta un po' indietro eh chiusura si oh vedi che sta attente non è prevedibile non è prevedibile non è prevedibile va bene così va bene così frena 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 non è prevedibile non è prevedibile perchè non è prevedibile non è prevedibile